Allora, per la sera dobbiamo vincere Alberto Macesca e World 5 Premier Fitness League Marco Gagliardi E Timotto, CFO, D'Alessandro Madrona Sandro Lippo Marco Gagliardi Comunque Alberto lo battiamo Box Jump 20, 15 2,5 10 Uguale Quindi va bene uguale Siamo Il box Il box già da Fandone Rack Cos'è? Stalì non sta lì 5 secondi non sta lì non sta lì non stai lì non sta lì non stai lì non stai lì spagliare No e 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! L'ultima di testa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, dieci, otto, nove, sette, sette, due, tre, due, go! Grazie a tutti. 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 Vai, 20 secondi. Vai, 20 secondi. Vai, 20 secondi. Vai, Sandro. Voi avete finito? Vai, 20 secondi. 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 vai, 20 secondi, vai, 20 secondi. Vai, 20 secondi. Vai, 20 secondi. Porta al mento la roba Così è più lungo 8 7 6 5 4 3 2 1 Ultima Come l'altra volta cazzo